Se anche voi avete un'amica del cuore e vi piaccia allenarvi in coppia, oggi a Matilde vi facciamo vedere degli esercizi. Cominciamo con il primo esercizio per gli addominali. Palla, comincio io, scendo con la palla, torno su, Matilde ripete l'esercizio. È molto semplice, divertente e potete farlo in coppia con il vostro partner, la vostra migliore amica, i vostri bambini. A casa vostra o al parco come siamo in questo momento. Secondo esercizio per gli addominali, le spalle e le braccia. Ci posizioniamo in plank, non cadete sulle spalle ma spingete sempre bene. Tocco delle mani, torno, tocco, torno. È un esercizio semplice, efficace e anche divertente. Il nostro allenamento al parco a corpo libero in coppia è finito. Speriamo di riavervi con noi per le prossime volte. Un bacio e ci vediamo.